Musica Autore del local suco colo ho un sugo verno hallo loc di algo ho comunidade antes hallo despejo Musica Sefesuco colo ho un deus dearo martin sato le hirak ne tamantes ne i atinankotuk Governo de russi equipa conjunta nebe liderado russi secretariado esta assunto toponimia no orienção urbana Amutuco autoridade município dili halona socialização ba comunidade afetada sira i a área colo ho un Tinankotuk 2023 i hao macanhira i hao na sefocina lo nerebakarra Ia tempubadak siratengge sefesu sefate na nebe karezer kare fatenei estaru nenea Usi nabaa entregato niliu si algea tocubaru no isenia Iha itanii escola de texas onara coencilu de mui nenea tamida ne tinankotukubaa Iki paida bah halon verificação badado sendo completo omus funesina ali nabaa Maibia tempubadak ne ame mo silau na fatene tamenei luna russi lirans comunitari ame atacar hamutuco P Annabaa mo silau ma sanbal seto pa name mo beel e explique 1988 meta info cyra nisiverazondam μέteni hao macan District 12 i taniometer Oye danabaaem umma e mafenance sinal pa syra most belattene benihepar fight ornitoka läiteta ketapiäонatetti timura sefesu Executive Navon imminent manmae me mowiu era romani fote nyatengge acat comida Maibai nyuri romano e ten attentna car dinankotuk awon Ma Holen 1500 karezeri daneya tam papa ki tak tenía husinfatene kui mamo Tu e Deux, da Daune, parte autore del local mostrò foti dados con la comunità di affettato Sira, non è bello raccomando il servizio del governo uniano. Non è bello raccomando la comunità di affettato Sira, non è bello raccomando la comunità di affettato Sira, non è bello raccomando la comunità di affettato Sira e di affettato Sira e di affettato Sira e di affettato Sira e di affettato Sira.